Cari concittadini, buongiorno, siamo molto contenti, siamo qua nel cantiere di Casa Mels, stiamo naturalmente supervisionando i lavori che stanno andando avanti con grande celerità, ma anche con precisione nel recupero di questo importante manufatto, ma quello che vogliamo farvi vedere oggi è quello che sta alle mie spalle, il vecchio forno e la vecchia lisiva, due importanti strumenti del passato, permettevano naturalmente il forno di fare il pane per tutto il paese e la vecchia lisiva per scaldare l'acqua per il bucato, due strumenti che vengono dal passato ma ci riportano nella nostra dimensione, ci ricordano quali sono le nostre origini contadine e quale siano state le attività che hanno contraddistinto, che contraddistinguevano la frazione di Prodolone è questo centro, quindi recuperi veramente di grande valore, grande valore soprattutto culturale, identitario all'interno di questo progetto finanziato dal PNRR per 1.800.000 euro di rigenerazione urbana e di recupero di una casa, di un manufatto veramente molto importante sotto tanti aspetti per Prodolone e per San Vito ma sicuramente questi recuperi danno un grande prestigio di carattere storico e appena saranno terminati i lavori e quando il cantiere sarà riaperto alla comunità tutti voi potete venire a vedere questo importantissimo recupero. L'immobile avrà una destinazione di carattere culturale, l'amministrazione comunale di San Vito predisporerà una manifestazione di interesse affinché più realtà possano concorrere a partecipare poi per l'affidamento degli spazi, appunto per le attività culturali e sociali, attività che noi crediamo siamo convinti porteranno l'infa, porteranno vitalità a questa bellissima frazione che ha un patrimonio culturale, architettonico e storico straordinario quindi ci aggiorneremo, crediamo che la ditta Stiledi e l'architetto Fabio Molinaro con tutti i collaboratori, che ringraziamo ovviamente per questo importante intervento e per la precisione e come dicevo l'accelerità dell'avanzamento del cantiere ci danno l'indicazione, salvo imprevisti, che l'opera stessa potrà essere definita e realizzata entro l'estate, quindi ci terremo sicuramente aggiornati. Centri estivi comunali, cominciamo a dare le informazioni utili per le famiglie, per i genitori, per i papà e le mamme, i nonni, per i nostri bambini per potersi organizzare per quest'estate in tempo, nel miglior modo possibile. Intanto un'informazione, il Comune ha destinato 13 mila euro in più proprio perché l'amministrazione comunale crede molto in questo tipo di servizio e cerca di rafforzare il più possibile anche cercando, nonostante il servizio sia particolarmente oneroso data la richiesta di educatori e di personale proprio per i nostri ragazzi stanziamo 13 mila euro in più proprio per rafforzare e non appesantire troppo le tasche ovviamente dei genitori e delle famiglie. Proprio per questo ci sarà la domanda di un contributo tra voucher e bonus presentando l'ISEE tramite il sito del Comune da lunedì 22 aprile, quindi segnatevi questa data da 22 aprile entro il 3 maggio. I luoghi, la scuola dell'infanzia, la materna rodaria ligugnana da lunedì 1 luglio a venerdì 9 agosto ovviamente come periodo del servizio, per la scuola primaria dal 10 giugno al 9 agosto presso la scuola elementare Marconi, sempre ligugnana. L'attività si svolgeranno da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00. con la facoltà poi della post-accoglienza fino alle ore 17 ovviamente per venire incontro alle necessità delle famiglie e dei genitori lavoratori. Mentre martedì, segnatevi anche questa data, martedì 16 aprile all'ora 20.30 in sala consigliare presso il Palazzo Municipale ci sarà questo incontro informativo per tutti voi, per sia i centri organizzati dal Comune, sia quelli realizzati e organizzati dalle varie realtà del terzo settore, cooperative e associazioni. Appunto per illustrare a tutti voi le opportunità dei bonus e dei voucher, quindi l'aspetto legato ai costi e poi naturalmente tutte le informazioni di carattere organizzativo e logistico. Oltre a questo ci teniamo a sottolineare che ci saranno dei contributi direttamente alle realtà del terzo settore, proprio per riuscire a sollevare dai costi generali il più possibile questa realtà, che ringraziamo ovviamente per la grande disponibilità e per la determinazione la capacità di organizzarsi per questo tipo di servizio estivo e quindi riuscire a trasferire anche dei contributi a questa realtà sicuramente crediamo possa poi avere una ripercussione positiva per quanto riguarda i costi del servizio stesso. Il bando per la realtà del terzo settore si chiuderà l'8 aprile, ovviamente realizzeremo la brochure L'Isola del Tesoro sia in formato digitale che in formato cartaccio per mettere insieme tutte in queste informazioni e permettere a tutti voi, a voi genitori e a tutte le famiglie di potersi organizzare al meglio anche ovviamente sfruttando le opportunità e le tante esperienze e le tante caratteristiche delle varie oasi dei centri estivi per i nostri bambini e per far loro delle belle esperienze di crescita e per imparare tante tante cose. Un ringraziamento particolare al vice sindaco Giacomo Collarile che è anche assessore al benessere che sta organizzando tutta la programmazione dei centri estivi al responsabile Massimiliano Popaez, tutta l'area Futuro e Benessere e i loro collaboratori. È un ringraziamento sentito ovviamente alle realtà del terzo settore, le cooperative e le associazioni appunto per accompagnarci in questo importante percorso a beneficio dei nostri ragazzi e di tutte le famiglie. Eventi del fine settimana, oggi venerdì 5 aprile ci sarà l'inaugurazione alle ore 11 quindi fra poco di Giancarlo Tealdo nella mostra in Sala Europa in Palazzo Rota sarà presente Teotardo che è il figlio dell'artista che ha appunto gentilmente donato le opere esposte al comune. Giochi da tavolo in Biblioteca Ragazzi appunto perso la nostra struttura della Biblioteca Ragazzi dall'ora 17 per ragazze e ragazzi da 11 a 14 anni su prenotazione allo 0434 843 045 scrivendo a biblioteca.ragazzi chiocciolasanvitotagliamento.fvg.it Gli ultimi giganti di ghiaccio, incontro con il fotografo Davide Bortuzzo, un incontro organizzato dal CAI di San Vito all'ora 20 e 45 al Teatro Rigoni. Si parlerà di cambiamenti climatici, sul riscaldamento e ritiro dei ghiacciai attraverso le immagini del fotografo. Evento a ingresso al libro e naturalmente grazie al CAI, a tutti i volontari, un bocca al lupo al nuovo consiglio direttivo che è stato da poco eletto e quindi un augurio di buon lavoro insieme all'Amminizzazione Comunale Comune come è successo già nel passato per portare avanti queste attività di sensibilizzazione, di valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale, insomma i grandi valori che il CAI porta avanti e fa proprio insomma per le attività che organizza ormai da tanti tanti anni, il CAI di San Vito ovviamente. Il sogno di una cosa, San Vito Teatro, un grande evento teatrale dedicato a un'opera importantissima per noi sanvitesi di Pierpaolo Pasolini che è ambientata proprio nella nostra cittadina, ambientata in modo particolare nella nostra cittadina, all'ora è 20.45 l'auditore Unzotti con Elio Germano e Teotardo, uno spettacolo straordinario, i posti ovviamente sono già esauriti data l'importanza e la fama degli attori ma soprattutto lo spettacolo perché dedicato a una grande storia di San Vito narrata in modo straordinario da Pierpaolo Pasolini, il sogno di una cosa. Sabato 6 aprile domani ci sarà l'inaugurazione della mostra per ravvivare la memoria di tanti rari e pellegrini ingegni alle ore 17.30 presso la chiesa di San Lorenzo con un incontro a cura del prof Fabio Mezzo. Verrà presentato anche il catalogo della mostra in cui si potrà ammirare la collezione di stampe e personaggi della storia furana di Danny e Severino Danelon. All'ora 21 all'Archicla una stand-up comedy con Sandro Canori, ingresso riservato ai soci con un contributo di 5 euro. Mentre la sera alle ore 21 al cinema Kung Fu Panda 4 all'auditorium appunto Zotti, biglietto 5 euro al botteghino oppure su Viva Ticket. Domenica 7 aprile alle ore 9 un altro evento importante che si lega alla giornata internazionale sulla consapevolezza sull'autismo che noi abbiamo voluto celebrare illuminando i nostri spazi di blu che è il colore della giornata e alle ore appunto 9 in parco rotta ci sarà la partenza, ritrova la partenza per 10.000 passi in salute insieme per l'autismo, quindi una camminata insieme proprio per celebrare questa giornata che coinvolge tutti noi e stimola soprattutto le istituzioni, l'azienda sanitaria e tutti coloro che operano in questo campo a fare sempre meglio e quindi organizzare servizi proprio per le famiglie e per i nostri ragazzi. Alle ore 11.30 invece ci sarà in Teatro Rigoni la presentazione del magazine Fashion and Art, il terzo numero con interventi degli storici per Giorgio Sclip, Angelo Florama e Vieri De Rossi. L'intermezzo musicale a cura di Claire D con Alberto Ravagnin presenta Silvia Giacomini. Mi preme ringraziare le attività di San Vito che stanno portando avanti questo bellissimo progetto che è arrivato al terzo numero, un magazine che valorizza sicuramente l'arte e la creatività di queste aziende ma soprattutto contestualmente il valore, la sinergia tra pubblico e privato valorizza la nostra San Vito, quindi permette di promuovere il nostro territorio, di promuovere la nostra cittadina, di promuovere la bellezza di San Vito soprattutto per chi non la conosce e quindi un sostegno, una leva importante di crescita all'attività turistica, all'attività di crescita generale della nostra San Vito. Quindi grazie per quello che state portando avanti e per le cose che ancora potremo fare insieme con proi ospiti di grande prestigio. Concerto, Ensemble Trombe, FWG, quattro trombe e organo all'ora 17 presso il Duomo, musiche di Vivaldi, Manfredini, Bach e Meldenson con il quartetto dell'Ensemble Trombe, FWG e Michele Bravin all'organo ingresso libero. Sempre al cinema, Kung Fu Panda 4 la domenica all'ora 16 all'auditore Unzotti, biletti 5 euro, botteghino o viva ticket. Mentre per quanto riguarda le mostre si aprirà la mostra che inauguriamo questo fine settimana, la chiesa di San Lorenzo per ravvivare la memoria di tanti rari e pellegrini ingegni, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Quindi tanti eventi anche questo sabato e questa domenica a San Vito. Grazie e buon fine settimana.